Con che spirito partite? Che cosa vi sentite di portare a queste persone che hanno tanto bisogno di solidarietà? E che cosa vi aspettate di riportare a casa? Innanzitutto la nostra partenza si inserisce in un percorso che parte da lontano. Noi siamo nella rete di Stop the War Now. Personalmente è la quarta volta che tornerò in Ucraina e per me tutto questo ha senso solo perché parte di un movimento che vuole dire no alla guerra è stringersi vicino alle persone che sono a pochi chilometri dal fronte che vivono in una situazione di difficoltà, che non dovrebbe ripetersi e quindi per noi è un modo di dire che tutte le vite hanno la stessa dignità. Chi di voi è già stato là? Che cosa ha capito dell'atteggiamento, dello stato d'animo di quelle persone e quanto è importante per quelle persone capire che c'è qualcuno che lavora per la pace? Per me si tratta del primo viaggio in assoluto, però come ci è stato ripetuto durante le formazioni di aiuti concreti, materiali, ne arrivano tantissimi. Quello che manca è proprio l'arrivo di persone che fisicamente portino calore umano e al tempo stesso lo ricevono. Per cui quello che mi aspetto da questo viaggio è proprio quello di scambiare culturalmente le nostre vite. Ma noi che rimaniamo qua a Torino, che cosa possiamo fare per quelle persone, per quei profughi, per quella popolazione? Secondo me fare politica in senso lato, nel senso mostrare vicinanza a questo tipo di iniziative come sta venendo fatto, sostenendole in tutti i modi possibili, ponendo i riflettori su quelle vite e cercando di impegnarci quotidianamente dentro le scuole, dentro le istituzioni per cercare che si cambi rotta e si possa costruire un'alternativa. Nella vostra percezione i giovani torinesi, italiani, hanno percezione di quell'emergenza e di quella necessità di lavorare per la pace? Assolutamente sì. Nella società civile torinese c'è sicuramente un movimento ben saldo che tutti i giorni si ricorda e ci ricorda che è necessario costruire pace a partire dalle azioni, quelle piccole, quelle locali.